Esce un importantissimo bando, dopo tanti anni molto atteso, che dà contributi in conto capitale a tutte le strutture del settore turismo. L'idea è quella di investire attraverso la riqualificazione degli spazi, gli incrementi delle dotazioni tecnologiche, la possibilità di portare fino in fondo delle vocazioni che rispondono ai cluster più ricercati da chi viene nella nostra regione. E' un po' una filosofia che crede molto nella possibilità di crescere nel settore turismo ed essere vicini in questa maniera agli operatori ci dà una grande opportunità di riqualificare le strutture ed aumentare l'eccettività. Il bando ha una cifra limitata, è quella della programmazione così come era stata impostata, ma l'invito che facciamo a tutti quanti è partecipare a questo bando, intendo alberghi, country house, tutti quegli soggetti e i campeggi che possono rientrare nei contenuti del bando, perché poi se ci fosse, io spero che ci sia, una grande richiesta di risorse per investire, per riqualificare le strutture, la regione è pronta a rifinanziare il bando con risorse significative, perché siamo convinti che un investimento importante in questo settore sia di grande traino per l'intera economia marchigiana.